Due terzi degli obiettivi globali per il benessere dei bambini non sono al passo con i tempi. È il risultato del nuovo report dell'UNICEF. Poiché il 2023 segna la metà del percorso verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile del 2030 stabiliti dalle Nazioni Unite, l'UNICEF afferma che se non ci saranno progressi, solo 60 paesi che ospitano appena il 25% della popolazione infantile mondiale raggiungeranno i loro obiettivi, lasciando indietro oltre un miliardo e mezzo di bambini in altri 140 paesi.